Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand Allora, che cosa c'è? Ho visto dei cuori... Grilling, a cosa fai? Perché dai dei cuori alla tipa? Non ho dato dei cuori alla tipa Comunque fermi tutti ragazzi Tantissimi mi piace Arriviamo a 5.000 almeno, a 10.000 Quello che volete Basta arrivarsi Il punto è questo Che abbiamo iniziato questo nuovo mod Vorremmo alternare la... Stocraft Con... Oppure non so Possiamo anche dargli un altro nome Adesso do anch'io un cuore Un fiore alla tipa Alla Dinocraft Perché adesso la Dinocraft non è ancora finita Ti avevo dato un po' Aiuto? Mi sto giocando Ah ti viene dietro Mi stalkerà Ti stalkerà Voi che la uccidiamo? Oddio Oddio ma è fatta tua Quindi adesso ti aiuta? Ok Comunque come in modo ragazzi ad esempio Ho messo la Orespawn Che in tanti mi avete consigliato La Orespawn Aggiungiamo dimensioni Mob Dungeon Armature Spade Ogni... E poi ovviamente... E poi ho messo anche tante... Tanti altri tipi di mob Ok? Altre mod che aggiungono mob Quindi ogni cosa qua vorrà ucciderci Ma c'è una fatta là sopra Qua c'è una fatta Al sopra Al sopra streghe C'è più di cose quindi Ma qua sopra in alto Obiettivo della mod Come sempre uccidere tutti i monstri che ci sono Sopravvivere Sopravvivere soprattutto Vedremo quante volte creperemo Ok Posso già dirti che ho inserito anche Una chance cube mod È una sorta di lucky mod Lucky block Ma è vero c'è una fatta lì sopra Guardala Scusa però c'è una roba Ma cosa devi fare? Dove? Dove? Vieni qua ho fatto già una cosa Ma c'è una cosa? Ma dovremmo prendere del legno Bo scusa già giusto Prendiamo già giusto Prendiamo un giusto Prendiamo un giusto Ma c'è qualcosa? Dove? Lì c'è una tipa c'è? Oddio Oddio ma è cattivo e buona No! No! Perché? No no! C'è una tipa? Ok ok picchiala Picchiala Perché? Non lo so tu picchiala Ma perché li siamo così? Tu zitta picchiala E perché la tua ragazza è così violenta? Rinegare una ragazza su un Minecraft Dimmi te Dio mio Mena la mano Tagliate dai coglioni Ma l'ho uccisa cosa vuoi? L'ho uccisa cos'è questa? L'ho ucciso io Ah no ho preso una carne Ho preso carne Tec me la sono mangiata Ho una torcia di cristallo Di cristallo? Tu come stai? Come faccio a darti vita? E non so come Proverò ad aiutare a mangiare Oh ma fa un culo muore Ma no! Come no? Si No nel senso Tanto ce ne sono tante da Come hai fatto? Basta dargli dei fiori? Comunque aspetta che ho trovato già Un coso Un come si chiama? Un lucky block E l'ha lavanti Ma perché stai qui rompendo con un arco Puoi più rompere per fuori col blocco Perché cosa cambia? Perché si rompe Ma che? L'arco? È vero sì davvero Stupido te lo stupido Vieni qua un attimo Faccio giusto un piccone Perché ho già trovato il coso Come si chiama il coso? Aspetta giusto il piccone in legno ragazzi Ovviamente ci servirebbe l'ascia per rompere il legno Perfetto Ah posso dare le armi? Cosa? Come sono i campi dalle le armi? Aspetta 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 Ma veramente? Aspetta eh Ma veramente eh Vuoi dargli delle armi? Potentissimo Ma perdonatemi che prendo ancora un po' di legno Poi vado a prendere quel cazzo di lucky block Ah no la mia schiena delle donne Ho già Ah ah facciamo una Ma ne puoi avere più di una? Non lo so Intanto la mia ha la spada Ah che cazzo è vero Ha la spada in legno ragazzi Guardate Un primo vento Aspetta Quindi possiamo farci tanti amici? Vieni qua un attimo Riena che ho trovato quel cazzo di coso Arrivo Aspetta che picca questo What the What the Ok adesso ho anche un po' di carne Perfetto Trenno ragazzi Vieni qua Che ho trovato il lucky block Praticamente queste qui Questi blocchi ragazzi Vedete questo qua la barosa Questi blocchi si sforano a caso Ok Nel mondo delle miniere eccetera eccetera Nei dungeon Ma si possono anche craftare Ovviamente adesso non abbiamo un cazzo per craftarlo Però fortunatamente ce n'è uno qua Riena che vieni qua con l'apriamo dai Io ti aspetto eh Pronto io lo rompo eh Ok vai Non so se rompo la mano Lo rompo col piccone E do un rotto Zappa Time to farm Zappa Secchio E Semi mi ha dato Oh vabbè ho già una zappa in ferro Mi buttala via Possiamo già farmare Eh Là davanti vedi che c'è una cosa Una Una struttura Una struttura Fatti una spada in legno C'è l'ho Oddio Cosa c'hai? È nuda È nuda No vabbè è in costume Costume? È perché è entrato in acqua È entrato in acqua È entrato in acqua Questo qui È una È una È una Ma adesso non è che si picchia Lasciala stare Lasciala stare La picchia La picchia? No Ma perché vedi si veste la picchia? Eh vabbè lascia che la picchia Prenditi la spada Dove essere L'ha buttata giù e l'ha uccisa L'ha buttata giù nella mini Là c'è qualcuno Non sei morto? Peccato Susanna è che adesso la tua ragazza mi picchia no? Eeeeee Oddio Cosa c'è? Ma no le sono scarpe che merda Pensavo fossero armi Ti ho dato delle scarpe? Sì Ma le puoi indossare? No le do lei Vabbè Daniele Ma finché adesso Ma basta dare le cose alla tua ragazza Vieni a perché 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 sono sempre da solo Perché nessuno mi vuole Perché puzi Dai vieni su Eh Dai Merda Sta fermo Non sta Non sta Non sta Che ho poca vita Non sta a farlo Eh guarda che qui c'è ferro C'è ferro Adesso dobbiamo uscire da qua comunque Eh Cioè devo andare la Se mi senterà dentro dovevamo andare Eh che cazzo Sono caduto Aspetta che prendo un po' di roccia così Prendiamo dopo con la mozza interna Mi faccio Potrei già fare una spada in roccia a dire il vero Cosa? Mucche che molano mele Ho sentito bene? Sì Apple Apple Cow No Ma vabbè Ribalta la mucca Ecco l'ho fatta Sì Aspetta un attimo che adesso faccio la spada quella in roccia un attimo Che devo assolutamente farmela Spada in roccia E potrei farmi anche il piccone già che ci sono Ok Perfetto È tempo di duellare come sempre E mi devo mangiare qualcosa Io vengo che mangio una mela dai Potremmo farci una fornace Ma Cosa c'è qua? Cosa è questa? Red Eves Come sarebbero? Le posso mettere? Ah se le scarpe buttale Ma come scarpe? Ma fa male quando le tiri Non tirarle addosso a me Neanche a lei Ma come fa male? C'è una mucca Tirala addosso la mucca Ma ne posso mettere? Ma no E cosa serve queste cose? Vabbè Allora to' le lanciamo via Lasciamo via le scarpe Non so cosa mi servono Aspetta che prendo un po' di roccia Anzi Oh di un lucky block Anzi aspetta un attimo Fai una fornace Hai la fornace? Ma ce ne ho io Ce ne ho io di roccia Dove sei? Dove cazzo è la tipa? Stranza vieni qua Oh Fate una fornace un attimo Pam Ho ucciso la mucca Perfetto Così mi mangio la mela Ok Mi ha dato ancora scarpe Perché qua sono scarpe diverse Ma sono quelle che ho io Le ho buttate via No? Sei sono? Si sono blu vero? Ah no scarpe quelle si Ma Non ti faccio nulla vedi? Se te ne tiro adesso Non ti faccio Eh no Non ci provo? Ok Perfetto Lascia lì che cucino La carne Aspetta che mi C'è un altro lucky block da rompere Rompiamo lucky block Bam My dad Ray upon bam Merdo Ma che cozza Oh cazzo Oddio è bello che Quando ho sentito Quando ho letto pioggia Ho appena alzato la testa E sono esploso Arrivedo da te un attimo Rinegan Aspettami Guarda ci sono già morto Cioè a parte che prendo un po' d'esperienza Ma perché quella lì continua a menarli tutti? Uccidetela? Eh uccidela tutte No le uccidono loro Ma che cazzo non è niente adesso Che palle Rinegan hai qualcosa da darmi Vieni qua Chi? Cosa sono quelle cose lì? Dai che ci sono dei vermi Che schifo Oddio spada in ferro? Si Che che me l'ha data la spada in ferro? Ma va? Si Bravi E questi centauri? Ah no si stanno ancora menando Si stanno mettendo tra di loro Vabbè mi ha detto una spada in ferro Ma è bene Ma è bene Molto frigo Molto bello Scusami dai una Guardate che prendo bistec Hai il piccone in roccia Riesci a farmelo? No Dai rinegan fammi il piccone in roccia Posso prendere un po' di carbone? Eh prendi un po' di carbone Eh ci sarebbe qua sopra Guarda vieni qua Vieni con me Fate il piccone in roccia Ti faccio vedere io adesso Hai la spada in roccia? No la spada in ferro io Allora sei bastardo È bastardo Me l'ha droppata Me l'ha droppata Non so che cazzo si è ucciso Vieni su qua E dopo veniamo a prenderci la roba Dopo dopo la prendiamo Lascia lì che magari crepiamo Vieni qua Praticamente vedi che qua dentro c'è una casa Potremmo usarla come rifugio iniziale Però dobbiamo liberarla prima Cosa cazzo c'è qua? Ah ratti di merda Meratti Ratti di merda siiii Ma ci sono altri fantasmi? Ghost due di vita Vieni dentro qua Merda ho colpito merda ho colpito la Fatamo No non fa niente la Fatamo Stupido ratto Vai a distruggere quel cosi Hai il piccone Rompili 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 rompi tutto Vedi devi mandatle una mano Dai 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 Molte non sono i postini? Chi? No I mob I fantasmi? No però diciamo che uccida lì lo stesso Mi dava lo fostido sinceramente Vera quanti sono? Ma andate via Ma fattene un po via? Ma che ci hai drogato? Ma datano di chatta Non fanno niente Vabbè non mi interessa Un po Non c'è un cazzo Adesso muore oh cazzo qua muori, ma cosa c'è, vedi che c'è anche fornace costi in table qua, allora dentro la cassa c'è una spada in ferro presa, presa tu, ok torce, to ne prendo 16, 16 li tieni tu, secchio lo tienilo tu, che è meglio, secchio lo tengo io, quattro un attimo che ci mettiamo delle torce qua subito va, mappa vuota, mettiamo una bella torcia, ecco, mettiamo anche una torcia fuori, cioè la mettiamo, mangio una mela, come qua così due torce ragazzi così dominiamo un po' la casa, ho già un letto, eh ma io no, eh boh la metto qua aiuto, ecco ho già un letto ragazzi e un baule che lo mettiamo qua così, abbiamo doppia cassa, cos'è questo? Black Hills è tua, che cosa? si no, la posteria, le scappate fanno le scappate, oh l'ho messa di per sbaglio, che fai di palle, è un canazzo che qua, la canazzo che la puoi prendere, no vedi che la canazzo che non è quella normale, vabbè, comunque andiamo a vedere, aspetta che levo il puntatore della morte, qua c'è, ho visto anche del ferro qua, possiamo iniziare a scavare? ho un legno, se ce l'hai, sputamelo, dio mio non ha legno, attento, attento, attento a uno zombie, uno zombie, ah tra l'altro ragazzi, in modo inserito, guardate, la spada, vedete che c'è scritto livello 1, in pratica più mostri uccidiamo, più livelli di esperienza si blocchiamo, quando tu sbocchi livelli di esperienza per la spada, merda l'ho buttata via, dove c'è scritto livello 1? guarda, tu, vedi livello 1, se tu chiacci la L, adesso non ho livelli di esperienza, quindi non la posso fare, in pratica ti si apre un menu, dove tu puoi dare potenzialmente la spada a permanenti, tipo a rallentare, veleno, cose varie, mua vita, mua vita, peccola, si prendiamo la peccola, uccidiamola così, ferma tutto, perché qua sotto c'è un dungeon, no, c'è un dungeon, sono delle casse, andiamo a vedere, ma prima prendi la pecora, l'ho già uccisa, ma me ne servono tre, sai com'è, oddio 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 che mostro è sto qui, baby skeleton, cos'è che, oh si certo, dà anche veleno, ma adesso sto morendo, ecco, morto due volte allo stesso video, wow, vieni qua, sono qua, c'è una mucca, ci sono mucche qua, tantissime mucche, dobbiamo prendere, a velena, ah si, è morto, come è morto, l'hai uccisa, no, lui, lei, lei, lei ha ucciso lui, vieni qua sotto, vieni qua sotto che c'è la tipa, vieni qua sotto, metto una torcia veloce, merda, vieni qua sotto, fai andare la tipa lì davanti sotto, arriva, 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 ti dà l'effetto dell'huiter quel bastardo, ok, rubi lo spawner, bravissimo, bravissimo, qua abbiamo allora target, oddio, cosa c'è, guarda, cos'è sta roba, non lo so, lo dobbiamo assolutamente aprire, no, lo dobbiamo aprire, è un lucky block, oh, ferro, pagnota, thunderstuff, sell, quella è la thunderstuff, fa vedere, è che posso lanciare pulmine sta cosa, magari non qui, aspetta, oddio, che figata, oh mio dio, che figata, questo, bam, guarda, bam, potentissima sta roba, guarda, hai visto? no, non dovrà lanciare contro perché cretica, grazie, ma qua cosa abbiamo, torniamo verso la torta sicura? eh, andiamo in casa, hai la lana? sì, allora andiamo, andiamo, allora andiamo, andiamo, andiamo a prendere dei modi, al top, qui con un albero, quindi qua, porca puttana, che sono un zombie per sfetto aspetta, aspetta, aspetta che gli provo a uccidere con questo, guarda, spum, spum, ha ha ha, perfetto, potentissima, e dura anche abbastanza, però me la tengo ragazzi come arma, perché, mentre che troviamo mostri un po' più forti, ci conviene tenerla da conto, quindi per adesso la metto nella cassa guarda che cattivissima la tipa, aspetta, ho il legno, ma te ne dico guarda che è cattivissima la tipa, vieni qua anche a un blocco di lana, te lo metto nella cassa, viena fatto un blocco di lana, che torniamo, poi apriamo al di giorno, apriamo il lucky block, qua potentissimo, vieni, la tipa è cattivissima, veramente, guarda che mi ha, guarda che ti sta un po' più appiccicato, io ho paura di lei stessa, io ho il lucky block, ok, andiamo al lucky block, è un chance cube in realtà si chiama, hai bistecche? si, aspetta che devo metterla a cucinare le andere adesso, che ho trovato il lucky block, aspetta, io non ho visto i che da cucinare, no, dai lo avevo già messo mi pare, boh, metterla il lucky block qua, lo vuoi aprire tu o lo apro io? no, apri pure tu, ecco, sono tra me a far rinchiare, vabbè, faccio un po' di pure piazza pulita, metto qua il lucky block, vai, vai, dai, ma quel cazzo grosso, è stranissimo, vieni qua, dai, pronto? ma no, va a far culo, tu mi vedi da lontano, ok, io lo rompo, eh, cosa? disco ball? cos'è, cos'è sta roba? hai preso, te l'artificio a computer, io mi allontano ragazzi, non so cosa sta succedendo lì, eh oddio cos'è? oh merda! si, hai fatto bene allontanarmi ho fatto bene allontanarmi? cioè, ma che sfiga è, oh, ma cos'era, hai visto? vabbè, il carbone comunque ho trovato, eh se vi avete piaciuto la scelta, se vi piace, mi raccomando, ne, eh, no, purtroppo no, quanto parlo, nei commenti, mi raccomando scrivete, scrivete se vi piace, vi date sta serie, secondo me, sarà lunga e bella, perché sono già morto quasi, no, quasi due volte sono morto e non abbiamo neanche iniziato la serie, se dovete farvi capire, quindi mettiamo giù questo qua dentro, perfetto qua abbiamo delle buone bistecche, una po' la lascia rinnegan ciao a tutti ragazzi e al prossimo video! ciao a tutti